Grazie, lo merito, lo merito, perché abbiamo dei musicisti spettacolari! Visto, 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 non siete andando! Vogliamo sentire il conoscolo, conoscolo, Federino, Vito, non mi rendete! Facciamo un duo un attimo, cominciamo così. Buonasera, buonasera. 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 Buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera. Buonasera, 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 buonasera. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.